Romina, complimenti per aver vinto questa edizione dell'Internazionale di Tennis Femminile a Caserno. Grazie, sono molto felice. È stata una gara un po' particolare, ci sono state delle interruzioni a causa del tempo, quindi anche dal punto di vista mentale forse si poteva avere un caldo, invece tu hai retto bene. Sì, è veramente difficile giocare con questo evento, sempre pioggia, però sono contenta che le teste sono state pronte fino a che ho vinto. La tua avversaria comunque è onore anche a lei, perché è una giovane che avrà sicuramente un futuro brillante. Sì, si vede anche il potenziale che ha, lei ha giocato veramente una fantastica settimana e anche oggi era veramente una dura partita. Due stili a confronto, alla fine hai vinto tu. Sì, per forza, sono molto contenta. Adesso invece hai altri progetti, come già ci avevi detto, ti devi ricominciare subito ad allenare. Sì, no, lunedì mattina vado a Parigi per le qualificazioni di Roland-Carros. Quindi un saluto a tutta la cittadinanza di Caserta che ti ha accolto davvero bene. Sì, sono molto felice che sono stata qua una settimana, tutta la gente molto molto gentile, anche oggi era benissimo che a causa di brutto tempo sono venuti così tante gente. Grazie. Grazie. Grazie.